Il Centro Evangelico di Cultura Arturo Pascali, il Centro Teologico e il Centro Studi Filosofico Religioso Luigi Paraison hanno organizzato un convegno di due giorni a Torino, al Salone della Casa Valdese di Corso Vittorio Emanuele II sul rapporto e le influenze passate, presenti e future tra economia e teologia. Questo convegno si inserisce nella programmazione del Centro Evangelico di Cultura Arturo Pascal di Torino, che da una decina d'anni cerca di indagare nelle relazioni tra la teologia e le varie discipline del sapere umano come la laicità, la biologia, le neuroscienze e la fisica. Nel convegno ci ha detto Luca Savarino, del direttivo del Centro Paraison, cerchiamo di capire se la teologia può dare degli accorgimenti alla direzione che la regolazione economica del mondo sta intraprendendo, soprattutto vista la crisi finanziaria mondiale di cui tutti stiamo vivendo le conseguenze. Noi abbiamo organizzato questo convegno intanto come centro culturale protestante, semplicemente per dimostrare che la teologia da un lato e il protestantismo dall'altro possono essere interlocutori anche di discipline che sono più rinomate, più riconosciute come la teologia o le scienze. Non si tratta di dare dei consigli ma a partire da una discussione sui presupposti del discorso economico e da una conoscenza delle leggi dell'economia, insomma delle teorie economiche, si cerca di interloquire. La prima sessione era dedicata a una discussione delle teorie economiche dominanti, il neoliberismo, le varie versioni del keynesismo, la rinascita o sopravvivenza del marxismo, mi pare ci sia stato un acceso dibattito, molta discussione e tre belle relazioni. Le domande dalle quali si parte sono molte, chi ha il compito di regolare che cosa e a quale livello, come possiamo noi cittadini contribuire a un'economia più equa e solidale e quali sono i luoghi dove si prendono le decisioni e quali sono i modelli a cui è possibile riferirsi. Il primo giorno è stato caratterizzato dalla presenza di professori d'economia delle università italiane che hanno relazionato a proposito dell'economia politica come scienza sociale, sul modello liberista e le sue critiche e sulle possibili soluzioni per l'Europa per uscire dall'attuale stagnazione economica. È stato sempre facile criticare il sistema, il problema sono le teorie alternative e robuste, quindi io, anche perché sono un economista, ho formato come economista, vengo da quella comunità che non voglio rinnegare, però vedo i limiti, evidentemente, è più un problema di obsolescenza, cioè il mondo è cambiato, è come quelli che facevano le carrozze quando sono state inventate le automobili, non è che è colpa loro, però il mondo è cambiato e noi stiamo ancora fermi alle carrozze, quindi di aggiornamento dei paradigmi, di ascoltare più la gente normale, cioè secondo me oggi l'economia, sia i fautori che i critici, vivono in mondi troppo distante dalle persone, se noi oggi andassimo in giro per l'Italia, ascoltare gli imprenditori dei veri, i lavoratori e da lì ripartissimo a fare teoria, sarebbe molto più interessante che fare queste teorie sui massimi sistemi, perché io ho sempre l'impressione che sia quelli neoclassici che quelli critici sono molto distanti dalla vita delle persone, oggi noi abbiamo bisogno di un'economia popolare, cioè che dia voce alla vita, non che dia voce ai libri. I tempi ad esempio della riforma protestante o i tempi della controriforma, la commistione tra economia e teologia era più forte di adesso? Era molto forte, perché in quel mondo la teologia era quasi tutto, almeno una religione, cioè c'era molta... allora quando Lutero viene a Roma e vede questo intreccio tra mercato e grazia, si vendevano le indulgenze, si vendevano le preghiere, le reliquie, ha detto, c'è avuto una reazione di un mondo sbagliato perché il denaro era troppo pesante, e quindi come reazione da lì è nata, anche attraverso la mediazione calvinista, a modo suo anche simile anche se è diversa, perché Calvino non è Lutero da questo punto di vista, però abbiamo dei punti in comune, il dire separiamo, io ci vedo in questo la luterana teoria dei due regni, separiamo l'ambito del dono da quello del mercato, non mescoliamo caris, la grazia con la moneta, quindi è nato in America il modello filantropico, dove il venditore fa il venditore, poi fa la fondazione, però mentre fa il venditore non c'entra niente il dono, quello lì è una stenda privata, che è tipico, però ecco, noi vogliamo importare le fondazioni in Italia, noi abbiamo un'altra storia, come almeno paradigma comunitario cattolico, poi in Italia abbiamo tutto, non è che un problema religioso, non è di paradigma, cioè la storia italiana è una storia dove è rimasto sempre molto intrecciato il dono con il contratto, pensiamo agli imprese familiari, che sono in Italia tantissime, è la parte più sana del nostro capitalismo, alla cooperazione, ai distretti, che sono se non questo mettere insieme partiti politici, preti, famiglie, insieme si fanno le cooperative, io credo che questa qui sia la parte migliore dell'Italia, che sia ammalata, però come nelle nevrosi, se tu in una nevrosi togli il problema, spesso togli anche il genio. Nel secondo giorno, invece, il tema è stato più incentrato sul ruolo delle religioni e sulle teologie confessionali, protestante e cattolica in particolare. Raúl González Fabre della Pontificia Università Comiglias di Madrid, Corinne Lanouard dell'Istituto Protestante di Teologia di Parigi e Jacquinot Azetop della Pontificia Università Gregoriana di Roma hanno dialogato a proposito della teologia della liberazione e dei suoi eredi. Infine si sono presentati i documenti e i pronunciamenti delle chiese in questi anni a proposito di questo tema, con Luca Negro, direttore del settimanale Riforma, e Francesco Compagnoni della Pontificia Università Sant'Ommaso di Roma.